Passaggio decisivo ristabilisce una stabilità del rapporto tra cittadino e magistratura Stupido, torri indietro! Più imparziale, più terzo, più autonomo, più indipendente Non delle regole di qualche modo limitano anche dall'esterno la distrezionalità Non so, arriva, riesce a scappare, guarda Non è male, guarda Ok, è che è il Giancarlo È che è il Giancarlo Oh, è che è il Giancarlo Oh, è che è il Giancarlo E' un po' che era qui, eh? È il Giancarlo Oh, è il Giancarlo